buongiorno a tutti benvenuti in questo nuovo video breve video di piccola recensione come vediamo queste sidi scarpe da mountain bike race 2 nere guardiamo la confezione queste sono le scarpe con il muo e con i due l'accetti superiori suola vediamo nettamente solo per mountain bike e grave veramente grave bisogna vedere anche uno come abituato si può mettere sia la scarpa da mountain bike su grave oppure quelle classiche da corsa allora lato maya in politex la chiusura techno 3 system a suola si di rs 17 come ho già detto prima ci sono i due strap e il boa questo bisogna tirarlo su così si stringe la scarpa poi una volta stretta chiaramente lato giù poi per allentare la scarpa ci sono le due levette tiri su e la scarpa subito a molle poi togliere il piede molto comodamente allora le tecnologie di questa scarpa sono abbastanza elevate perché essendo poi si diveste un numero più stretto rispetto a altre scarpe quindi si portano 42 sussidi consiglio un 43 43 e mezzo si di ricordo che fa anche i mezzi numeri la suola permette anche sugli strati di avere abbastanza un bel grip cosa andrà a vedere qua che ci sono le tre vitine questo qua e danno il pezzo di ricambio è compatibile con attacchi spd e anche se ci sia i pedali calamitati si possono mettere il tallone chiaramente non è regolabile perché essendo una qualità media ancora di bassa non c'è il tallone regolabile lì bisogna andare su alto gamma sussidi e chiaramente però è un'ottima scarpa che abbastanza grip e viene ben saldo il piede in fase di spinta di tutte e due sia sinistra e destra questo qua qualità prezzo uno scarpa che consiglio molto e chi non fa proprio in uso estremo di monte mai cioè se non fate competizioni eccessive siete proprio super competitivi e sia comoda ed elegante come scarpa è molto facile anche da regolare e chiaramente da questo qualità prezzo mi aspettavo anche un pochettino di più da da sidi perché prezzo di destino siamo c'è intorno ai 185 euro online si trova 135 euro la scarpa e rispetto altri competitor sì di paghi un pochettino di più il nome che se prendiamo nord wave qualità prezzo non c'è già più di due strap ce n'è uno solo e con il doppio buono anche dipende poi anche dal modello lì e la fascia di prezzo però qualitativamente parlando ottimo qualità prezzo per iniziare questa scarpa seguiti canale se condividete mettete mi piace al video e restate collegati ciao a tutti